I costruttori lecchesi-sondriesi suonano il campanello d'allarme senza un confronto sui nodi importanti del settore con il governo si rischia di vanificare la domanda in crescita anche nei nostri territori grazie alle agevolazioni del super bonus e del piano nazionale di ripresa e resilienza. I mesi che abbiamo davanti, dichiara Sergio Piazza, presidente di Ancelecco Sondrio, rappresentano una straordinaria opportunità per il settore delle costruzioni. Occorre non perdere tempo, abbiamo aperto la partita sulle compensazioni dei rincari nei cantieri privati dopo che quella nei lavori pubblici è entrata a far parte del decreto sostegni bis. Si tratta di una vera e propria emergenza, spiega il numero uno dei costruttori locali considerando da un lato il continuo rincaro dei prezzi dei materiali e dall'altro i ritardi nelle consegne, dall'altro ancora le carenze di attrezzature a cominciare dai ponteggi. Le imprese si trovano sempre più spesso nell'impossibilità di rispettare i tempi contrattuali previsti. Occorre dunque una misura che permetta un allungamento delle tempistiche dei contratti dove necessario. Inoltre, aggiunge Piazza, abbiamo l'esigenza di poter discutere delle compensazioni anche in quei contratti che le scudevano, a cominciare dai lavori legati al super bonus. E sempre sul fronte del super bonus abbiamo l'esigenza che sia estesa almeno fino a fine 2023 la scadenza per usufruire dei benefici. C'è infine il tema della trasparenza degli appalti pubblici, giudicato fondamentale in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Occorre evitare, conclude Piazza, che i lavori possano essere assegnati all'oscuro e premiando solo un numero ristretto di imprese. Occorre ripristinare ciò che il Governo aveva approvato e che è stato poi rimosso nel decreto semplificazioni. Più pubblicità sulle procedure negoziate significa anche garantire il rispetto del principio di rotazione.